La civiltà cattolica presenta Abitare nella possibilità Tutti i racconti di Javier Marias, di Diego Mattei Un racconto può contenere un mondo intero? I più grandi scrittori, in poche pagine, abbracciano vite intere. Tra questi possiamo considerare Javier Marias uno degli autori spagnoli contemporanei di maggior spicco del quale, da poche settimane, è uscita la raccolta dei racconti che con molta sobrietà si intitola Tutti i racconti. La silloge è uscita in Spagna già nel 2012 ma solo oggi ne disponiamo in traduzione italiana. La pubblicazione nasce con un duplice intento di salvaguardia e di sistemazione. Con molta autoeronia, Marias contrassegna i 30 racconti che la compongono in due categorie i racconti accettati e quelli accettabili distinguendo tra quelli che hanno retto la prova del tempo e che rilegge senza vergogna e quelli di cui il tempo ha rivelato fragilità e punti deboli e che quindi Marias rilegge con un po' di disagio. Esiste poi una terza categoria, segreta e invisibile, che riunisce i racconti inaccettabili. Si tratta dei testi non presentati e da dimenticare. Tutti i racconti riunisce i testi che rappresentano agli occhi del loro autore il meglio di quanto ha scritto. Poterli leggere insieme è un'esperienza stimolante e feconda che facilita l'ingresso nel mondo fantastico dell'autore spagnolo e permette connessioni altrimenti invisibili. Nella varietà dei generi che vengono affrontati nella diversità a volte notevole della loro lunghezza vediamo ritornare personaggi, situazioni, temi cari e alcune domande irrisolte, sempre vive. Vi sono racconti di fantasmi, alcuni di genere thriller, altri che hanno il sapore del genere poliziesco e altri ancora dall'atmosfera sospesa e onirica. Ricorrono alcuni temi, quello del doppio, della morte e della condizione umana dopo la morte, della precarietà della vita e dell'amicizia tra uomini e del tradimento e dell'amore. Spicca la cura del particolare, la costruzione raffinata, potente, capace di presentare un mondo completo e totale. Lo stile della scrittura è barocco, avvolgente, attentissimo al dettaglio e alla composizione delle sfumature. Le frasi, spesso lunghissime, sono scandite dalla punteggiatura più semplice, di virgole e punti e virgole, e trasformano la lettura in una esperienza di immersione, di lentezza e di ritmo quieto, quello del respiro, quello della vita. I quattro racconti che ci permettiamo di segnalare sono quando ero mortale, sangue di lancia, malanimo e nel tempo indeciso.